Entrato in città e al Palapanini Andrea Gianni che ha parlato delle ambizioni di Modena Volley e degli europei che sono appena conclusi con la vittoria dell'Italia in occasione della presentazione della partnership tra Modena Volley ed Expert e IAE. Volevamo tornare a giocare per vincere e abbiamo allestito veramente una squadra che ha tutte le caratteristiche per poter arrivare fino in fondo in qualsiasi manifestazione. Di entrato dopo un periodo lungo dove sono stato fuori c'è tantissimo entusiasmo ed è anche una cosa bella perché proprio sono i giocatori che hanno veramente una gran voglia di iniziare questa stagione perché tutti sanno al di là delle pressioni perché chiaramente si gioca per vincere però respirano all'alto livello quindi che è diverso, c'è poco da fare. Ci sono ovviamente dei giocatori che vogliono vincere e quindi stanno portando all'interno di questo gruppo una grande convinzione e una grande energia. Esperienza e mentalità vincente Modena un progetto chiaro per risultati immediati. Strada diversa rispetto a quella scelta dalla nazionale ma il rinnovamento profondo di Fefe De Giorgi ha portato a un oro tanto bello quanto inatteso negli europei conclusi trionfalmente contro la Slovenia. Un trofeo su cui c'è anche la firma di Gianni. E' stato un'Italia che ha giocato veramente molto bene e meritatamente hanno vinto questo titolo europeo. Io sono contento perché ripeto era tanto che non vincevamo un oro con la nostra nazionale e sono orgoglioso poi di tutto quel gruppo di giocatori che parecchi giocatori sono passati attraverso le mie mani e averli visti giocare così è bello, è una bella soddisfazione. Grazie a tutti.